buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog realtà è sera e guardate Dario cosa sta facendo abbiamo tutta la casa pulita che bello vero amore è sempre bella pulita e qua abbiamo comprato un televisore gigante vero amore cinema e abbiamo anche già fatto l'albero grazie alla nostra amica Susi che ci ha fatto comprare anche questo ci fa solo spendere soldi questo territorio è bellissimo e ci siamo anche messi in nette guardate qua amore ma tu sembri malato abbiamo anche comprato i cussini di natale c'è Pube abbiamo messo anche il tappeto guardate che meraviglia c'è proprio una bella atmosfera allora ragazze stiamo vedendo Revenge che è stupendo e tutti ne parlavano e finalmente ci abbiamo fatto a vederlo pure noi io ieri praticamente ho visto cinque episodi prima di andare a dormire adesso Dario mentre che io sto ancora lavorando al computer eccetera lui deve recuperare cinque episodi perché ieri si è addormentato e poi così dopo lo possiamo vedere insieme dobbiamo ancora cenare io sono tornata ad allenamento e niente vi volevo ringraziare perché state comprando in tantissimi in questi giorni su caritashop.com perché c'è il black friday quindi stiamo ricevendo migliaia di ordini e volevo ringraziare vi volevamo ringraziare vero amore grazie sempre veramente tantissimo anche per tutti gli apprezzamenti ero un po in ansia per il nuovo sito le nuove foto ci avete fatto un sacco di complimenti quindi mi fa troppo troppo piacere scusate se non so proprio in perfetta forma ma oggi non è stata una giornata bellissima però ci tenevo a fare questo video per ringraziarvi tantissimo per il vostro affetto i vostri ordini i vostri commenti tutto siete veramente meravigliosi e noi vi ringraziamo vero amore con tutto il cuore veramente grazie tantissimo e comunque il codice sconto black fridays che proprio così e vale fino a domenica a mezzanotte vi da il 20 per cento di sconto quindi approfittate noi per questi giorni siamo stati a milano vero amore però non ho vloggato vi chiedo scusa se non ho vloggato perché ultimamente sto un po preferendo instagram per cui ma che cosa acqua è l'ombra ma non è perché mi sono allenata quindi praticamente avevo un po di trucco che poi è andato via comunque praticamente ho fatto un sacco di storie quindi magari seguitemi su instagram perché nelle storie instagram sono molto attiva però con i vlog ho perso un po io sono così diciamo youtube per me è sempre stata una passione ho sempre fatto quello che mi veniva di fare senza obblighi e in questo periodo come se non lo so che c'avevo quando comunque sono condizioni pietose e quindi non so mi è passata un po sta voglia dei vlog soprattutto perché di stare magari in un posto nuovo abbiamo rifornito anche i gioielli dopo magari ve li faccio vedere l'abbiamo riforniti tutti una scatola nuova bellissima venite a vedere ragazzi organizzatevi anche con i regali di natale sì sì perché si risparmia poi sotto sotto sarà un casino vero ragazzi anticipatevi perché veramente anche i corrieri sono un po lenti nel periodo di natale quindi anticipatevi già da ora sono incasinati dalla merce da consegnare sì loro non è che sono lenti però si a cavallo un sacco di cose quindi non arrivate al 20 dicembre anche perché poi non vi arriva in tempo il nostro scatolo sotto all'albero sì è vero comunque ragazze vi dicevo sembra che con instagram mi trovo più spontanea a fare le storie a fare le cose invece mettermi calla con la videocamera poi c'ho le mie due fotocamere tutte e due rotte e quindi c'ho questa che è un mattone pesantissima non lo so sembra che siamo andati a milano anche per lavoro no però ci siamo anche goduti un po la città che a me piace tantissimo milano castello sforzesco il duomo stare con quella videocamera in mano ogni volta no voglio godermi il momento e magari ho più piacere di fare una storia instagram piuttosto di mettermi la fare il blog a perché devo fare il video e fare il video no se non c'è il video non fa niente non lo faccio e adesso invece mi andava proprio di fare questo video per per ringraziarvi poi c'ho altre idee di video che vorrei fare tipo vorrei fare il video degli acquisti natalizi con mio amore perché avevo preso un sacco di belle cose e poi voglio fare insomma così perché sapete che per me youtube resta comunque sempre una passione e non un lavoro c'ho questa fortuna che comunque avendo il mio shop ho fatto proprio per questo che voglio che youtube non sia un obbligo per me non sia la mia fonte di sopravvivenza insomma e voglio fare video quando mi pare piace quindi questo è quanto comunque una cosa importante ragazzi ho fatto un po di scorpacciata anche di prodotti per in prospettiva del natale poiché diciamo noi siamo stati ad esempio a milano abbiamo mangiato un po male sapete se si inizia a mangiare male già da ora fino a natale è un problema quindi adesso mi sto allenando bene ho fatto un po di scorta di di cibi sani appunto proprio in prospettiva del natale per mantenermi in forma e ve li voglio far vedere mi sto organizzando in questo modo tutte le colazioni gli spuntini pranzo e cena in settimana sto facendo tutto sano tutto fit anche se non mi sto privando dei carboidrati sto mangiando un po di tutto riso integrale sempre pranzo e cena tutto per appunto con l'aiuto di questi prodotti mi sto trovando bene appunto per arrivare a natale senza chili in eccesso già anzi bella in forma di modo che al natale posso mangiare perché comunque a natale io mangio vero amore mangiamo mangiamo un pandoro tutto e in quella settimana mangiamo poi riprendiamo la nostra routine adesso ve li faccio vedere perché magari le potete prendere anche voi sono ottimi appunto per stare in forma arrivare al natale informissima ecco qua ragazze le ho messi tutti qua ho fatto un bel rifornimento da food spring che li amo questi prodotti e ve li consiglio perché in questo modo così state state in forma e state leggeri fino a natale ho preso il protein pancake questo mi faccio pancake a colazione li amo queste sono delle novità c'è il pane vegan adoro non vedo l'ora di farlo poi questo qua è tradizionale vi fece anche il video se non erro l'ho fatto tante volte è buonissimo i brownie e vedete io in questo modo mangio bene e sono cose buone ad esempio questi qua i brownie al cioccolato li faccio sempre a colazione o a merenda e sono facilissimi da fare perché è già pronto e sono tutti alimenti biologici naturali perché food spring è un marchio che lavora bene bio naturale sano e quindi senza eccessivi conservanti eccetera soprattutto sono bilanciati quindi sono low carb a basso contenuto di carboidrati e di grassi quindi sono ottimi per una dieta questo altro pane poi i semi di chia questi li amo li metto sempre nello yogurt nell'insalata aiutano a mantenere il peso corporeo questi qua sono gli snack ve li faccio vedere allora queste sono tipo della frutta secca molto molto buona c'è dentro gli anacardi le noci molto molto buoni poi c'è questo qua che è tipo come se fossero dei pezzettini di carne essiccata tipo bresaola molto buoni proteici senza grassi magro queste qua sono delle palline adesso vi faccio vedere allora ragazzi le ho aperte per farveli vedere queste sono la frutta secca che anche come spezza fame poi la frutta secca fa benissimo anche per mantenere il peso corporeo appunto per placare la fame come spuntine spuntine a colazione guardate ci sono dentro le noci varie tipi di frutta secca mischiate vedete gli anacardi le bacche di golgi sono molto molto buoni ad esempio prendo un pugnetto tipo così e me li porto dietro a colazione a merenda vedete c'è un po di tutto sono molto molto buoni ci sono quelli là fatti tipo di carne essiccata sono buonissimi ragazzi io lo adoro sono tipo di bresaola molto buoni magrissimi e queste sono le palline che vi dicevo che queste servono per fare dei frullati basta che aggiungete nel frullatore una di queste palline eccole qua escono qua dentro è un po di latte vegetale io però queste qua le mangio anche così tipo barrette nel frigo c'ho le barrette le tengo sempre in frigo sono buonissime quelle qua vedete sono tutte le barrette che io mangio sempre di food spring cioccolato biscotto le mangio sempre anche nocciola colazione merenda le amo ragazze da food spring usate sempre il mio codice sconto carlita yt ve lo scrivo qua con questo codice avete un bello sconto quindi fate rifornimento inserite questo vi scala un sacco di soldi quindi vi conviene e se fate l'ordine vi consiglio anche gli shape shake questi qua si fanno dei frullati proteici da bere tipo al pomeriggio quando avete voglia di dolce voglia di mangiare e sono molto molto sani accelerano il metabolismo e vi aiutano a perdere peso se fate la dieta io mi trovo da dio questo al cocco per me è più buono e anche al caffè questi sono i miei gusti preferiti comunque guardate sul sito food spring perché escono sempre delle novità e poi l'ultima cosa che vi voglio consigliare sono questi qua scusate i porridge con questi ci fate colazione vaniglia e cioccolato sono fatti da farina d'avena sopra c'è il marchio bio quindi sono tutti bio naturali guardate vi faccio vedere anche dentro vedete questo è quello al cioccolato c'è farina d'avena ci sono anche le pepite di cioccolato molto buono basta aggiungere latte vegetale e vi mangiate questo porridge che è buonissimo quando vi viene in voglia di cioccolato insomma invece di mangiare schifezze comunque ragazzi io ve li straconsiglio io mi sono fatta una bella scorta così fino a natale almeno mi mangio queste cose sane che mi accelerano il metabolismo mi aiutano a stare in forma e poi lo sapete pranzo e cena sempre sano con pesce carne bianca molte molte verdure e cereali integrali infatti all'occasione ragazzi ho preso anche questo qua ve lo faccio vedere a parte che vabbè c'ho la dispensa piena di pasta integrale anche questo ve lo straconsiglio il riso basmati integrale che si cuoce in soli 10 minuti ed è la cosa migliore per come carboidrati anche meglio della pasta meglio delle gallette che sono comunque troppo confezionate io pranzo e cena mangio sempre questo qua negli spuntini mangio questi e veramente così mi sto trovando benissimo quindi ragazzi io ve li straconsiglio carità yt andate su food spring prendete tutte queste cose sono veramente veramente buone dai ragazze teniamoci in forma ce la possiamo fare fino a natale diminuiamo anche gli sgarretti sabato e domenica sgarriamo però sano senza accessere schifezze così a natale mangiamo ragazze ho preparato uno spuntino per Dario guardate qua l'accoppiata vincenti unite questi due questo con questo adesso glielo porto che c'è questo che è tipo cosciutto poi c'è la frutta secca sono molto buone da mangiare insieme adesso ma ma quale pane amore io ho fatto una merenda fitte ma che bell'attimo spera che c'è qui questa sera questa sera piccola che c'è anche pubi lo vuole no è per il mio amore tieni amore guarda che ti ho portato è mio è mio non mi titicati dai un poco pure a pubi dai un poco 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 è piccola ma dai ma come mangi tutto tu poco poco vedi come amore questo è tipo prosciutto piano piano come amore amore stavo scherzando dammio che bello ragazzi non c'è una cosa più bella di stare in casa dopo una giornata di lavoro vero amore goderci questo per pure è vero amore quanto si è bello che questo divano piano piano è bello vero ragazze troppo bello mio amore ciao ragazzi no amore sono gelosa non mandare bacio no bacio a nessuno no grazie dopo anche pupi è bello è bellissima pupi è bellissima è vero che è bellissima non mi amore non mi ama ragazze lo sapete che io piangolo come una bimba quando lui non mi pensa mi devi amare di più io ho bisogno di aspetto io ho bisogno di aspetto e lei che arriva gelosa come faccio io mi lamenta sempre ragazzi quest'uomo è un fan quanto lo amo mi guarda anche lei io ho bisogno di aspetto ragazzi ho già nel mood natalizio perché davvero non so come dirvelo e quindi ve lo dico e basta finalmente dopo non so quanto tempo sono tornati disponibili i gioielli carlita giuli e li abbiamo perfezionati li abbiamo migliorati sono andati a ruba e ci è voluto un po' di tempo ragazzi perdonate ci sono voluti un po' di mesi perché lo sapete che comunque un lavoro che richiede tempo sono fatti a mano sono completamente d'argento e oro ci teniamo tantissimo che siano ottimi di qualità e abbiamo fatto di fare anche la scatola guardate che bella la scatola nuova ho fatto fare questo stile molto molto elegante e raffinato con il fiocchetto rosa guardate che bella vi piace ragazzi adesso ve ne apro qualcuno vi faccio vedere comunque andate su caritashop.com e trovate la sezione gioielli sono stupendi piccoli qua ragazzi li ho aperti ma venite a vederli tutti su caritashop.com perché ne sono tantissimi sia d'argento che oro la cosa bella è che abbiamo creato la nuova scatolina l'ho ideata io vi piace io la trovo adorabile ho fatto inserire anche il certificato di garanzia all'interno che appunto attesta la qualità del gioiello sono completamente in argento 925 bagnato in oro 24 carati e c'è scritto anche dietro come conservarlo correttamente sono favolosi guardate qua che meraviglia perfetti per i regali di natale venite a comprarli fate in fretta perché lo sapete poi quando finiscono pensate adesso ci sono voluti 4-5 mesi per rifarli perché sono completamente fatti a mano sono bellissimi questo è proprio il colore shabby che piace a me guardate abbinato anche i miei cuscini adoro fatemi sapere se li regalerete per natale e se ve li auto regalate sono stupendi potete fare anche tutti gli abbinamenti orecchini collana varie collane guardate che belli che bella mamma ragazzi non so se ve li ho fatti mai vai a vedere questi qua eccoli qua sono i fiocchi di latte oh mio dio smetti a fuoco che ho trovato nuovi al sole 365 dove vado sempre a fare la spesa sono biologici sono molto molto buoni li preferisco guardato anche i valori nutrizionali sono più buoni meno aciduli di quelli normali e anche i valori sono ottimi ve li consiglio ragazzi allora adesso mentre mi faccio un po' di routine di pulizia viso perché sapete che non so voi ma con sto freddo la pelle diventa uno schifo si secca però aumentano le impurità quindi adesso vi faccio vedere un po' che prodotti sto utilizzando per risolvere questo problema di descuazione pelle secca e contemporaneamente poli dilatati pelle impura punti neri macchie un po' di tutto quindi per dare luminosità e perfezione al viso e vi metto tutti i link dei prodotti nel box informazione sotto e vi ricordo che c'è il codice sconto attivo del black friday meno 20 per cento black friday fino a domenica a mezzarotte quindi approfittate voglio anche un po' parlare nel frattempo di nella domanda che mi fate più frequente su questo fatto delle endometriosi allora inizio a dirvi che sto utilizzando questo qua ve lo straconsiglio questo detergente viso per perli normali e secche ed è molto buono perché è un detergente che non secca la pelle poi costano pochissimo questi qua sono barattolini che veramente costano poco quindi lavo il viso con questo semplicemente e questo vi consiglio di lavare il viso con questo detergente mattina e sera appunto perché non secca la pelle però lo pulisce a fondo quindi elimina tutte le impurità lo smog eccetera ok ragazzi lo amo questo detergente adesso vado con lo scrub faccio questo qua al cioccolato che è buonissimo e sia per il viso che per le labbra mi piace un sacco la profumazione e in più praticamente questo qua non secca la pelle non è aggressivo ma guardate che meraviglia adoro ma non voglio mangiarlo praticamente anche nutriente cioè illumina tantissimo la pelle leva quello stato superficiale di smog di particelle pelle morta e quindi la illumina un sacco perché la pelle quando anche è desquamata e screpolata e impura va fatto sempre lo scrub questo qua non è aggressivo quindi vorrei farlo un piccolo per rimangiarlo vabbè sulla fronte io anche quando metto i cappelli si screpola un sacco ok questo qua in questo modo che meraviglia lasciate anche due tre minuti in posa e poi andate a sciacquare ok ragazzi adesso la maschera mi vado a mettere questa qua ve la straconsiglio revolution mask è una maschera effetto glue illuminante e rimpolpante che illumina tantissimo il viso e nutre in profondità la pelle quindi la pelle è più soda, rimpolpata, luminosa e idratata quindi se avete le screpolature, i pori dilatati questa qua la rende più perfetta considerate che io ce l'ho da un sacco di mesi, dura un sacco allora questa maschera ve la straconsiglio, è veramente buona ragazzi allora mettetela dappertutto io adesso non ve lo faccio vedere ma voi mettetela anche sul decolleté e sul collo è importantissimo adesso mentre che me la metto vi voglio raccontare un po' sta cosa perché in tante mi chiedete e mi sembra brutto quasi non rispondere perché comunque alcune ragazze possono dire ma perché non ce lo vuoi dire allora hai dei segreti, insomma vuoi tenerlo nascosto perché siamo la tua febile noi ti possiamo capire, insomma tutte queste cose qua e in effetti sì è vero, ecco qua vedete adesso la lascio in posa tipo 10 minuti è favolosa ragazze la pelle dopo è bellissima, morbida, luminosa, più bella eccola qua, revolution mask, vi metto il link nel box informazione per acquistarla è buonissima, noi la vendiamo tantissimo su caritashop.com ragazze mentre un po' mi posa la maschera poi dopo continuiamo vi voglio dire questa cosa perché in tante mi chiedete appunto di sapere ragazze, oh mio dio ragazze stavo tipo morendo, si è tipo fermato il cuore e raga ho tutto il cellulare, vabbè cose di ordinaria amministrazione praticamente in tante mi chiedete questa cosa allora ragazze vi dico questa cosa io veramente vorrei dirvi tutto anche della mia malattia delle cure che sto facendo, di tutto però dovete capire che qua comunque sono guardata da migliaia e migliaia di persone e veramente sono argomenti delicati ma non è che non ve lo voglio dire, è semplicemente il fatto che magari se ci incontriamo anche per strada e me lo chiedete io ve lo dico però dirlo qua veramente io è da un po' di tempo che ho cambiato un po' filosofia non so se avete visto su youtube ho iniziato comunque a mostrare meno di me eccetera proprio per il fatto di tutelare la mia pravese proprio perché adesso so che mi seguono migliaia e migliaia di persone e sono sincera mi dà fastidio e mi vergogno di dire certe cose così delicate e intime non lo so cioè immaginate a voi mettervi davanti a una videocamera a parlare non so di vagina già solo pronunciare la parola vagina oppure utero oppure cose ginecologiche veramente sto molto a disagio in imbarazzo e io sono così, mi vergogno un po' di queste cose anche nella vita di tutti i giorni cioè non è che uno mi incontra ah ma sai ma come va, come stai cioè ho vergogno a parlare di queste cose sono un po' riservata anche se non può sembrare da quello che è su youtube ma sulle mie cose private sono un po' riservata quindi però vi vorrei dire perché sono tante ragazze che hanno questa problematica che si trovano nella mia situazione quindi vi vorrei dire allora io mi sto curando e purtroppo comunque l'itero non è piacevole dovrò subire anche dei piccoli interventi comunque ragazzi è meglio che non ci penso perché se no mi sparo perché veramente che palle e niente vabbè ma proprio di parlarne perché veramente non è facile per me parlare di queste cose che veramente sono pesanti comunque sapete che l'endometrio sia una malattia che riduce anche la fertilità quindi poi va curata perché può provocare cisti, polipi e cose comunque che io infatti ho e basta più di questo non vi dico comunque mi dovrò fare degli interventi delle cose e dovrò curarmi e comunque una gravidanza si deve avere guidata non è che si può avere così e non è che tac subito viene insomma questo è il senso comunque basta non mi pare è difficile per me parlare di queste cose davvero spero che mi capiate sono veramente cose private e comunque se io vado a sciacquare il viso se volete scrivere qua nei commenti la vostra esperienza con questa malattia come avete risolto scrivetemi solo cose positive per favore perché veramente già sto un po' affitta amareggiata quindi magari datemi nei consigli nei commenti io ad esempio mi rendo conto anche con l'alimentazione che quando mangio bene sto meglio quando invece mangio schifezze comunque sto male perché comunque mi prende anche l'intestino vabbè comunque è una cosa terribile terribile adesso mi sciacquo il viso per non pensarci ragazzi la chicca delle chicche è questa qua con la pelle ancora umida dal tonico alla rosa utilizzo il siero alla rosa questo qua è qualcosa di veramente miracoloso proprio per nutrire la pelle illuminarla rimpolparla è veramente favoloso e in più non unge quindi ha un effetto secco sul viso e poi ha un profumo io adoro tutta questa linea alla rosa questo ve lo straconsiglio ragazzi con questa pipetta bellissima allora io ne prendo qualche goccia e lo vado a massaggiare vedete lo massaggio questo è ottimo anche per fare i massaggi tipo per esempio lo consiglio anche all'estetiste o anche voi se vi fate i massaggi tipo lo potete usare la sera quando vi fate la pulizia tipo due o tre volte a settimana ma anche la sera prima della crema perché è un siero viso che contiene ceramidi vitamine vitamina C appunto la rosa moscheta tanti ingredienti che vanno vedete a nutrire di impolpare la pelle e a renderla proprio più bella in profondità quindi è ottimo ok fate un bel massaggio e lo fate assorbire per completare l'assorbimento sempre a questo punto applicate la crema continuando il massaggio in questo modo penetra tutto tutto dentro questo punto è il momento della crema questa è una crema che consiglio a tutte una crema viso illuminante idratante rimpolpante al collagene e vitamina C è veramente ottima questa qua è specifica proprio per idratare la pelle ottima come base trucco è veramente bella io adoro queste creme di apiarium ne basta pochissimo e va ad idratare la pelle non la unge si assorbe in fretta perché comunque non bisogna utilizzare prodotti troppo pesanti che possono appesantire e questa qua appunto avendo il collagene la vitamina C è molto illuminante idratante è perfetta appunto come base trucco quindi io la uso mattina e sera ha un profumo anche ottimo e se avete la pelle screpolata le impurità eccetera questi prodotti ve la rendono perfetta adoro completato col contorno occhi questo qua melograno che ve lo straconsiglio per eliminare le rughettine gli occhi gonfi gli occhi le occhiaie sapete tutte le imperfezioni illumina tantissimo lo sguardo mi piace un sacco idrata e anche quando poi dopo mi trucco viene bene l'effetto il correttore non mi vale le rughette comunque è buonissimo e sulle labbra questo qua lo metto anche un po' sul bordo labbra per eliminare anche le rughette eccetera dalle labbra e poi sulle labbra lui il mitico stick labbra propoli e miele è buonissimo ragazzi questo è tipo uno stick labbra effetto gloss che nutre in profondità è particolarissimo sembra un gloss tipo solido io me lo porto anche dietro devo dire che è il mio preferito del momento lo amo perché non mi fa seccare labbra quindi non le fa screporare è veramente veramente buono comunque vi metto il link anche di questo nei box informazioni sotto direi che se è fatta una scelta perché se è fatto tardi la mia pelle è bellissima vado a letto veramente felice quando faccio tutti questi trattamenti di bellezza la mia pelle è bellissima non so voi ma io mi sento proprio rinata adoro farlo quando non lo faccio che tipo vado di fretta tipo mi strucco velocissimo magari non metto la crema succede veramente però quando succede mi sento che mi manca qualcosa invece così mi sento benissimo e devo dire che la pelle veramente veramente migliora se utilizzate questi prodotti giorno dopo giorno è vero sono 5 minuti in più però 5 minuti in più sono un investimento per la vostra bellezza e anche la vostra salute perché avere la pelle secca desquamata o comunque con tanti pori dilatati è sintomo di avere una pelle non in salute a parte il lato estetico quindi va nutrita non è anche prendersi cura della propria pelle io vi mando un bacio vi auguro una buona notte ci vediamo martedì con il nuovo video ciao family grazie per i vostri commenti e per i vostri like contano tantissimo per me ciao ciao ecco qui ragazze tutti i fantastici prodotti che vi ho consigliato in questa bellissima routine provateli tutti provate proprio questa routine e vedete i fantastici risultati sulla pelle sono veramente veramente ottimi vi metto il link di tutti i prodotti nel box informazione sotto e vi ricordo che fino a domenica c'è il codice sconto attivo leggete nel box informazione sotto a domenica a a a a a a No puoi essere legale Criminal, crei criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal